Ci andavo come i cristiani al Colosseo perché ero terrorizzata, però poi lui aveva questa bonomia che poi alla fine ti metteva a suo agio, diceva oddio è già finita, non abbiamo... E poi anche, insomma, mi spiace parlare bene dei morti, sono tutti buoni, però ecco, lui è un vivo, questo è il punto. C'è un ricordo personale particolare che vuole condividere? No, no, semplicemente è stato la grande accoglienza, era materno lui, tra l'altro, aveva questa accoglienza proprio, ecco, quindi adesso... È quello che arrivava alla gente diretta. È quello che arrivava, è quello che arrivava. Oggi è sparito un familiare di tutta questa gente che sta qua. Grazie Barbara, buona mano.